Vita più facile per i pendolari del Lazio, almeno sul fronte informazioni. Da adesso, essere aggiornati su tutte le notizie che riguardano il proprio treno è possibile, grazie alle nuove funzioni InfoPush dell'app gratuita Trenitalia, disponibile per tutti i dispositivi con sistemi operativi iOS ed Android. Si realizza così anche per i viaggiatori della Tratta Roma Cassino e per tutti gli altri pendolari, ciociari e pontini un piccolo desiderio, essere quantomeno informati tempestivamente per sapere cosa sta accadendo lungo la linea e ai treni abitualmente utilizzati. Si tratta per ora di un servizio partito in via sperimentale in Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Lazio. Sugli smartphone o sui tablet ci saranno le informazioni sulle cause di un eventuale ritardo, sulle previsioni di ripristino della normalità e sulle soluzioni alternative disponibili. Il nuovo servizio si estenderà dal prossimo luglio anche ai pendolari del Veneto, del Piemonte e della Campania e nel 2018 raggiungerà i clienti di tutte le regioni. Da alcuni mesi però, in via sperimentale, grazie ad alcune speciali funzioni dell'app, era già possibile essere informati automaticamente, allora richiesta, sull'andamento del proprio treno. Da adesso però, con il nuovo servizio, ogni singolo evento che determini ritardi superiori ai 15 minuti o stop alla circolazione dei treni che si è chiesto di monitorare, verrà subito segnalato e motivato. Il sogno, naturalmente, è che il telefonino o il tablet non squilli mai per questo motivo e che quindi i treni viaggino in orario.